Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Siamo a Crema ed è il 21 luglio 2011 quando l'appartamento di una palazzina in via Dogali diventa una drammatica scena del crimine. Claudia Ornesi, 41enne, e la sua figlioletta Livia vengono trovate senza vita in camera da letto. A scoprire i corpi intorno alle 9 del mattino è il padre della donna, Gian Stefano Ornesi. L'uomo è talmente sconvolto da non riuscire neanche a usare il telefono. Così si rivolge a un inquilino del piano di sotto che chiama subito il 118. Presto sopraggiungono l'automedica, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il primo a entrare in casa è il medico del 118 che raggiunge veloce la camera di Claudia. La donna giace nel letto matrimoniale, ma non mostra segni vitali. Un odore di gas gli riempie le narici e il medico individua quattro bombolette per i fornelli da campo di quelle che si usano in campeggio. In effetti sono presenti anche quattro fornelletti. Poi, voltandosi, il medico scorge il lettino dove è sdraiata la piccola Livia. Purtroppo, anche lei è deceduta. Di seguito lo specialista si reca in cucina dove nota dieci blister di Xanax, in cui mancano ben 95 compresse. Cos'è successo in quella casa? Le prime ipotesi si fanno subito strada. Si presume che Claudia abbia ucciso la figlia per poi togliersi la vita tramite l'utilizzo di quelle quattro bombolette di gas. La morte è sopraggiunta proprio per un'intossicazione da monossido di carbonio e una probabile indigestione di farmaci. Alla guida del commissariato di crema c'è Daniel Segre, comandante della polizia di Stato. Quel giorno, mentre è in ferie, riceve la chiamata di un ispettore che gli comunica di trovarsi su una scena del crimine... strana. Sembra suggerire un omicidio-suicidio, ma qualcosa non torna. Daniel raggiunge i colleghi immediatamente, entra in casa e la sua attenzione è subito catturata dalla disposizione dei corpi, che ha colpito anche gli agenti. Trovano strano che Claudia, dopo aver compiuto un gesto estremo come l'omicidio della figlioletta, non abbia voluto stringerla per l'ultima volta tra le braccia. Sembra piuttosto che qualcuno abbia adagiato o spinto il corpo della donna. Quanto ai blister trovati in cucina presentano una disposizione allineata che si potrebbe definire maniacale. Il primo passo è individuare dove i farmaci siano stati acquistati, partendo dal numero di lotto, che però risulta illegibile. Perché sono state asportate tutte le etichette. La situazione si fa sempre più sospetta. Che motivo aveva Claudia di far sparire quelle tracce prima di compiere un'azione irreversibile? La polizia cerca nella spazzatura le scatole che contenevano le medicine, ma non le trova. Sembra che Claudia se ne sia sbarazzata e abbia cambiato il sacco. Le domande affiorano in circolo. Che bisogno c'era di buttare via la spazzatura per poi compiere un gesto tanto estremo e irrimediabile? Anche il coperchio del contatore del quadro elettrico è stato asportato, come per timore di causare danni all'abitazione con l'esplosione del gas. Questo genera ulteriore perplessità negli inquirenti, che si sentono al cospetto di una messa in scena, cioè di una scena del crimine costruita d'hoc. A questo punto facciamo un passo indietro. Chi è Claudia Ornesi? Le amiche e le colleghe la ricordano come una persona innamorata della vita, dotata di un'intensa energia vitale. Un'amica in particolare racconta che si erano confrontate sull'ipotesi del suicidio, commentando la scelta drammatica di un conoscente. E Claudia si era espressa in maniera netta. Riteneva che l'atto di porre fine a una vita donata dal Signore fosse fuori dalla sua immaginazione, da donna radicalmente religiosa e praticante qual era. Questi dati vengono confermati anche dal sacerdote, che aveva battezzato Livia, e dal medico curante che conosceva Claudia da ben 30 anni ed escludeva qualsiasi segnale di depressione. Dalle testimonianze di coloro che conoscevano Claudia, lo scenario dell'omicidio o suicidio pare inverosimile. Dunque c'è qualcun altro che è coinvolto nel caso? Un assassino che ha alterato la scena del crimine ed è ancora a piede libero? Ammesso che sia così, quest'assassino avrebbe dovuto lasciare delle tracce in casa e sugli oggetti ripresenti. Le minuziose analisi eseguite dalla scientifica si concludono con un colpo di scena. Non si rileva alcuna traccia, neanche sulle bombolette di gas da campo e sui quattro fornelletti. Ma se Claudia si fosse tolta la vita, almeno le sue impronte dovrebbero essere evidenti. In virtù di questi sviluppi prende corpo l'idea che mamma e figlia possano essere state uccise e che l'assassino abbia cancellato ogni impronta, come suggerisce la polizia scientifica. Anche sui blister dei medicinali non vengono rilevate tracce biologiche e questa loro assenza si pone in netta contraddizione con le ipotesi iniziali di omicidio-suicidio. Insomma, quale suicida si preoccupa di rimuovere le proprie tracce da tutti gli oggetti utilizzati? Il pubblico ministero quindi dispone che venga eseguito un accertamento per verificare se questa assenza di tracce sia giustificata da fattori diversi dall'apposita rimozione. Poiché il gas sprigionato dalle bombole espandendosi ha determinato un abbassamento della temperatura dei recipienti. Le gocce di condensa lungo le pareti delle bombole potrebbero avere cancellato impronte DNA. Tuttavia, la verifica accerta che, nonostante la formazione di condensa e la gocciolatura, le tracce biologiche e le impronte permangono sulle bombolette. Dunque, la loro assenza è dovuta a un'azione meccanica di ripulitura dei recipienti. Gli inquirenti però non possono ancora stabilire che si tratti di una simulazione dell'omicidio perfetto, quindi devono approfondire le indagini concentrandosi sulle bombolette del gas. Daniel Segre chiede di verificare se sulle bombolette sono ancora presenti i codici a barre e la risposta è affermativa. Scoprono che dal codice a barre si può risalire a un lotto di produzione, dunque individuare il produttore, poi l'importatore, il distributore e infine i rivenditori delle bombolette. Si recano così di negozio in negozio, muniti di scontrino, sperando di identificare l'acquirente. Per quasi due mesi gli inquirenti percorrono tutta la grossa distribuzione, svolgendo un lavoro certosino e impegnativo. A Milano Est delineano una zona dove sono presenti diversi centri commerciali. Al Carrefour di Carogate riescono a individuare sei bombolette appartenenti allo stesso lotto di quelle rinvenute e sequestrate nella camera di Claudia Ornesi. Devono ancora rintracciare l'acquirente e tramite le analisi della contabilità risalgono alla vendita di quattro bombolette da campeggio, vendute insieme il 16 luglio del 2011. Quindi, cinque giorni prima del duplice decesso di Claudia e sua figlia. Qualcuno le aveva acquistate. Lo scontrino, recuperato dagli inquirenti, lo prova. Inoltre sono stati comprati uno zaino, una bevanda, del succo di mirtillo, un porzionatore da gelato, un mortaio e dei portacandele. Gli inquirenti sperano che il cliente abbia pagato quella carta di credito, così potrebbero identificarlo facilmente, ma purtroppo l'acquisto è avvenuto in contanti. Decidono allora di fare un tentativo estremo, interrogando la cassiera sull'autore di quegli acquisti. Insomma, lei di clienti ne incontra tanti durante una giornata di lavoro e, all'inizio, non ricorda nulla. Poi, controllando lo scontrino con più attenzione, l'acquisto dei portacandele le fa tornare alla mente un alterco con un cliente che pretendeva uno sconto proprio su questi articoli, sconto che però non era stato applicato in cassa. La cassiera fornisce quindi una prima descrizione dell'acquirente. Lo ricorda come un uomo stempiato, ben vestito, alto circa 1,75 m, parlava senza alcuna inflessione dialettale. Con la stessa tecnica di ricerca, gli inquirenti consultano i numeri di matricola dei fornelletti e risalgono al rivenditore, che si trova in un altro centro commerciale a Pieve Fissiraga, dove si presentano con il relativo scontrino. Ahimè, anche questa ricevuta non porta gli inquirenti a trovare una pista, perché il pagamento era stato effettuato sempre in contanti. Tuttavia, mentre in casa di Claudia sono stati trovati quattro fornelletti, da quello scontrino ne risultano tre. Dunque viene rintracciata anche la ricevuta del fornello che mancava all'appello, acquistato nel medesimo centro commerciale. Lo scontrino era stato battuto alle 12.52 del 19 luglio, quindi tre giorni dopo i primi acquisti e un giorno prima dell'omicidio di Claudia Ornesi, morta nella notte tra il 20 e il 21 luglio. Oltre al quarto fornelletto erano state acquistate delle salse, delle bevande, dei sacchi della spazzatura e del nastro biadesivo. Si ipotizza che alcuni di questi oggetti siano stati comprati proprio per mettere in atto l'omicidio di Claudia e della piccola Livia. Dall'autopsia emerge che entrambe sono morte per asfissia da inhalazione di propano e butano, i gas presenti nelle bombole, dopo essere state estordite con lo Xanax. Appare però strano che quattro piccole bombolette da campeggio abbiano potuto saturare l'ambiente, quindi gli inquirenti chiedono al nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco di fare un esperimento. Devono verificare la saturazione del gas in un ambiente chiuso e confinato. A seguito dell'esame si conferma che il gas contenuto nelle bombolette, pur disperso in un ambiente ridotto, non è sufficiente per determinare la morte per asfissia delle vittime. Questa informazione rafforza le ipotesi degli investigatori. C'è un terzo soggetto che ha agito e l'ha fatto con premeditazione. Sugli scontrini, come detto, per ogni acquisto sono elencate anche delle bevande dal sapore abbastanza forte al lime, al mertillo e al pompelmo. L'ipotesi degli inquirenti è che l'assassino abbia selezionato questi gusti per mascherare meglio il sapore e il retro gusto dell'Oxanax. Gli sacchetti di plastica invece forse servivano per intrappolare la testa della mamma e della bambina in un ambiente ristretto per amplificare gli effetti delle bombole e dei fornelletti, saturando un volume d'aria molto più concentrato. Il nastro biadesivo era stato adoperato per sigillare i sacchetti. L'ipotesi predominante, dunque, è che l'assassino abbia prima stordito Claudia e la figlia con l'Oxanax per poi ucciderle con l'utilizzo del gas. Dopodiché l'omicida ha eliminato i sacchetti, di cui non c'era traccia sulla scena del crimine, e ha disposto le bombole nell'ambiente per creare la messa in scena. Se le dinamiche del duplice decesso sono queste, l'assassino è di certo qualcuno che conosceva bene Claudia e sua figlia, anche perché in casa non sono stati riscontrati segni di effrazione. Forse Claudia gli aveva aperto la porta tranquillamente, o forse l'omicida aveva addirittura le chiavi. In questo momento non c'è ancora nessun sospettato, ma secondo gli inquirenti il colpevole va ricercato in un ambiente familiare, quindi amici o conoscenti, se non addirittura parenti. I familiari della vittima a questo punto riferiscono che il padre della piccola Livia si chiama Maurizio Iori ed è un medico molto stimato e conosciuto, un primario oculista. Indagando, gli inquirenti scoprono una situazione abbastanza complessa, perché Maurizio Iori era reduce da una precedente separazione, avvenuta nel 2007, con una donna da cui aveva avuto due figli. Subito dopo aveva conosciuto Claudia, in qualità di sua paziente. I due avevano iniziato a frequentarsi, ma Maurizio vedeva anche un'altra donna di nome Laura. Sia Claudia che Laura erano rimaste incinte, ma Maurizio aveva scelto di sposare quest'ultima e aveva chiesto a Claudia di abortire. Lei però, forte delle sue convinzioni religiose, aveva escluso in maniera categorica questa scelta. Come è facile presumere, ne era nata una conflittualità, erano addirittura intervenuti dei legali, perché Maurizio non voleva riconoscere la figlia. Dopodiché Maurizio si era deciso a dare il suo cognome alla bimba e riconosceva anche un assegno mensile a Claudia di 400 euro, oltre a renderle disponibile l'appartamento in cui la donna e la piccola sono state ritrovate senza vita. A questo punto Maurizio Iori viene sentito dagli inquirenti come padre della bambina, però si riscontra una strana coincidenza. Infatti la sera dell'omicidio era arrivata una chiamata al 113 da parte di un vicino di casa di Maurizio Iori che esaudiva una richiesta di Laura. La donna, in vacanza a Rimini, cercava in vano di rintracciare il marito e temeva che avesse avuto un malore. Maurizio non l'aveva più richiamata e il suo telefono squillava in vano, anche se, secondo Laura, l'uomo avrebbe dovuto essere a casa. Dunque la polizia quella notte verso le 11 aveva forzato le persiane e la porta finestra dell'abitazione, ma di Maurizio non c'era traccia. Sul bancone della cucina però erano presenti alcuni effetti personali, delle chiavi, un telefonino che squillava a vuoto e una lettera. Su questa lettera c'era scritto «Non è giusto che nostra figlia viva senza un padre». Siccome Laura era a conoscenza della situazione con Claudia, aveva detto agli inquirenti di non darvi peso. Al termine dell'intervento degli agenti, il vicino di casa aveva scritto un biglietto per informare Maurizio Iori che la polizia era entrata nell'abitazione e perché. Lo esortava a contattare la moglie e il 113 al suo rientro. Maurizio una volta a casa aveva chiamato il 113 per spiegare che aveva semplicemente scordato il cellulare nell'appartamento. Disse che aveva appena concluso una lunga telefonata con la moglie, durata circa un'ora, in cui l'aveva rassicurata. Per gli inquirenti, quindi, la situazione si era risolta. Questo episodio evidenzia che, la notte del duplice delitto di Claudia e Livia, Maurizio Iori non era in casa. Secondo quanto ricostruito grazie alla lettura dei tabulati, era tornato a casa all'1.44 quando aveva telefonato a sua moglie per tranquillizzarla. Poi Maurizio Iori aveva chiamato il 113 alle 2.05. Dal controllo dei tabulati emerge anche che l'ultima telefonata di Maurizio alla moglie risale alle 19.31. C'è quindi un buco di cinque ore dall'ultima chiamata effettuata fino al momento in cui l'uomo ha ripreso il telefono per ricontattare la moglie e la polizia. Interrogato su questo lasso temporale, Maurizio Iori racconta agli inquirenti di essere tornato a casa e di aver lasciato lì il telefono prima di uscire di nuovo per una passeggiata. Era andato a fare la spesa in un centro commerciale vicino, poi si era incamminato a piedi fino al cinema multisala per vedere un film. L'alibi chiaramente viene verificato, ma non regge. Gli inquirenti hanno subito acquisito le immagini dei circuiti di videosorveglianza del centro commerciale e del cinema multisala, ma non c'è alcuna traccia di Maurizio Iori. Tuttavia, anche se Maurizio Iori non ha un alibi, è ancora presto per incolparlo dell'assassinio. Ora la polizia deve trovare il modo di incastrarlo. Analizzando e incrociando i tabulate di vendita e distribuzione e le celle telefoniche, emerge che, alle 12.54 del 17 luglio del 2011, a Maurizio era arrivata una telefonata dalla moglie. In quella chiamata, il cellulare agganciava la cella di Carugate dove si trova il centro commerciale Carrefour, sulla tangenziale est di Milano. Esaminando i report del telepass abbinato al suo veicolo, si rileva che la macchina di Maurizio transitava in uscita dal castello di Meleniano Binasco, alle 14.54. Circa mezz'ora dopo, l'auto rientra nel casello di Milano Sud Meleniano, in direzione Lodi, dove si trova il centro commerciale di Pieve. Queste indagini, dunque, permettono di collocare Maurizio Iori sui luoghi e negli orari in cui sono stati comprati gli oggetti rinvenuti sulla scena del crimine. A partire dalle bombolette di gas per finire allo scontrino emesso un giorno prima del delitto, dal quale emergeva l'acquisto di un quarto forno a letto, dei sacchi della spazzatura e delle salse per condire il sushi. Questo particolare acquisto culinario è un indizio importante perché colloca effettivamente Maurizio Iori sulla scena del crimine. Claudia, che era molto legata alla madre, le aveva riferito che Maurizio sarebbe tornato a casa sua e di Livia il giorno 20. Per l'occasione l'uomo aveva già deciso di cucinare del sushi che avrebbe portato lui stesso insieme a delle bombolette da campeggio che a detta sua servivano proprio per scaldare le salse. La circostanza era apparsa singolare a Claudia perché Maurizio non aveva mai cucinato ma non aveva voluto contrariarlo, contenta del fatto che Livia potesse trascorrere del tempo con suo padre, familiarizzando con quel genitore che mai le aveva dimostrato alcun tipo di affezione. L'assenza del rapporto tra Maurizio e Livia suscita strazio mentre si ascolta una conversazione intercettata dagli inquirenti in cui l'uomo parla con una sua amica che gli domanda Ma quindi la bambina non la vedevi mai? Maurizio risponde Quasi mai L'amica ribatte Di nome, ma non di fatto Maurizio risponde Sì sì L'amica continua Quindi non eri neanche affezionato? Maurizio dice Purtroppo no Cioè purtroppo per fortuna insomma L'amica insiste Perché lei non te la faceva vedere o? Maurizio esclama No, ero io Ero io L'amica ribatte Magari lei soffriva per questo Maurizio risponde Ho capito però Cioè al mondo si soffre per tante cose Claudia era molto in confidenza anche con la sorella Paola la quale descrive ai giudici la tensione che dominava i rapporti con l'ex Maurizio infatti la minacciava e una volta l'aveva spaventata davvero dicendole Non sai di cosa sono capace So essere anche diabolico Io i miei problemi li cancello Poi di fronte alla richiesta di Claudia di fare il padre non solo sulla carta Maurizio aveva risposto Il bambino lo vuoi tu? Arrangiati È un problema tuo A questo punto dalle indagini la posizione di Maurizio agli occhi degli inquirenti È sempre più compromessa e viene formalmente indagato Lui nega qualsiasi coinvolgimento nella vicenda Ogni volta che gli inquirenti scoprono qualcosa di nuovo Lui si dichiara estraneo ai fatti Almeno all'inizio Nega di essere stato a casa di Claudia e Livia Poi però deve confessarlo Nega di aver effettuato quegli acquisti Ma infine deve ammetterlo davanti all'evidenza La situazione per Maurizio è sempre più difficile Poi a completare il già grave quadro indiziario nei suoi confronti Vi sono i dati ricavati dall'analisi dei vari computer in uso a Maurizio E di altri dispositivi Ciò che emerge sembra non lasciare più adito a dubbi Tre mesi prima dell'omicidio Maurizio aveva effettuato delle ricerche in materia di successione e di assicurazione di mutui In caso di morte Il 15 giugno del 2011 aveva letto un articolo di una testata online Che riporta la notizia di un suicidio di un carcerato Per togliersi la vita il detenuto aveva usato un sacchetto di plastica E una bomboletta di gas da campeggio Il 21 giugno Maurizio scarica dal computer dell'ospedale Uno studio medico relativo alle patologie che possono insorgere dopo anestesie Fatte con il gas Due giorni dopo l'omicidio cerca e legge l'articolo 580 del codice penale Che riguarda l'istigazione al suicidio Il fatto che Maurizio sia l'assassino è quasi una certezza Ma quale può essere il movente di un'azione così mostruosa? Maurizio Iori è stimato da tutti Non ha nessun problema economico E ha una carriera in ascesa A questo punto facciamo un passo indietro E puntiamo la lente di ingrandimento Sulla vita di Maurizio Iori e Claudio Ornesi A maggio del 2008 Claudia scoprì di essere in dolce attesa Ma si scontrò con la reazione negativa e inflessibile di Maurizio Per ben due mesi lui non si fece più vedere Fu lei a cercarlo per comunicargli che avrebbe lottato per dare alla luce la bimba che aveva in grembo Di fronte alla sua determinazione Maurizio l'avvertì che sarebbe sparito dalla sua vita C'è da dire che successivamente la situazione migliorò Maurizio si convinse a riconoscere la bimba pur chiedendo massima riservatezza nella gestione della sua nascita Sia per la propria immagine professionale sia per la propria condizione familiare Maurizio voleva evitare che persino la sua madre ne venisse a conoscenza Claudia pur senza esserne costretta si adeguò alle richieste di Maurizio come spesso faceva Poi dovette affrontare il momento più difficile della sua vita quando scoprì che a distanza di soli tre mesi dalla nascita di Livia Venne al mondo anche un'altra figlia di Maurizio Fu un periodo di grande sconcerto e amarezza Claudia giustamente si sentì offesa perché capì che tutta la riservatezza lei imposta Serviva per consentire a Maurizio di vivere una situazione identica ma serena con un'altra donna La domanda ora è quale pericolo potevano rappresentare Claudia e Livia per Maurizio Iori? Beh dunque c'era innanzitutto una questione di natura economica perché Maurizio per quanto fosse benestanti aveva dato in uso a Claudia un appartamento che pagava con la sua società Poi le passava 400 euro al mese Il giorno del delitto aveva infatti cercato di preservare l'abitazione abbassando l'interruttore della corrente per evitare che potesse esplodere con la diffusione del gas Poi oltre all'aspetto economico era preoccupato dei danni alla sua reputazione siccome conduceva due vite Una perfetta esibita a tutti quanti L'altra in cui infrangeva le regole della rispettabilità ma la sua concezione di sé non ammetteva sbavature La moglie di Maurizio Laura era a conoscenza di quest'altra donna e di quest'altra figlia Dunque cosa lo ossessionava? Ebbene come accennato Maurizio voleva ardentemente tenere nascosti alcuni particolari della sua vita alla propria madre Che neanche sapeva dell'esistenza della nipotina Livia Maurizio sembrava condizionato da lei Lasciava che la madre lo indirizzasse in tutte le sue scelte quindi non doveva essere a conoscenza delle sue pulsioni intime Non c'è alcun tipo di tormento o passionalità in questa storia Bensì la freddezza di un uomo che elabora un piano complesso è potenzialmente infallibile Maurizio uccide la sua ex Claudia e la loro bimba perché erano diventate troppo ingombranti nella sua vita Anche quando viene arrestato l'unica preoccupazione di quest'uomo glaciale è chiedere di poter chiamare la sua segretaria per posticipare gli appuntamenti di lavoro C'è poi un altro particolare importante Una lettera che non era stata trovata durante le perquisizioni a casa di Maurizio e nemmeno in quella di Claudia Gli inquirenti la individuano tra il materiale sequestrato in mezzo a dei fogli bianchi sui quali c'era solo il calco di una scritta a mano Per evidenziare il testo la scientifica si avvale di una tecnica che si chiama ESDA Usata per leggere le linee di solco Si analizzano cioè i solchi che rimangono sul tessuto superficiale cartaceo Che vengono evidenziati da una polvere nera simile al toner delle fotocopiatrici Capace di far riapparire la scrittura che si era persa È Claudia a scrivere quella lettera prima di essere uccisa E le sue parole invece di suscitare compassione avevano scatenato l'odio, la rabbia e la violenza di Maurizio Contro di lei e la sua stessa figlia Nella lettera si legge La sera in cui mi hai fatta piangere minacciandomi con queste parole Se fai del male ai miei figli te la faccio pagare A te e a quella lì Quella lì è tua figlia La mia anima è lacerata da profonde ferite vecchie nuove Ora sono crollata, sfinita Ora so che hai scelto l'altra E anche se io sono innamorata di te e ti voglio bene Rinuncio a te perché faccio del male solo a me stessa Livia ha il diritto di avere un padre e tu hai il dovere e l'obbligo di farlo seriamente Senza rancore Dunque per la corte di Cassazione di Brescia il vero movente di Maurizio è il seguente Ha ucciso l'ex compagna Claudia Ornesi e la loro figlia Livia Una figlia che non ha mai amato Non per esigenze di riservatezza Non cioè per tenere la loro esistenza nascosta a sua madre Ma per il timore di doversi porre il problema di accreditare Livia All'interno della famiglia allargata Con tutti i possibili contraccolpi psicologici Che ciò avrebbe potuto provocare nei confronti degli altri figli E delle altre donne vale a dire l'ex e l'attuale moglie Le ha uccise perché il rendere di dominio pubblico la situazione con Claudia E l'esistenza della figlia Livia Avrebbe potuto infrangere quel delicato equilibrio di rapporti Così faticosamente realizzato con gli altri figli Con l'ex moglie e quella attuale Dunque Claudia e Livia una volta eliminate non sarebbero più state un problema Livia non sarebbe più entrata nella famiglia allargata Cosicché la vita quotidiana pur dopo qualche prevedibile turbamento iniziale Per la notizia del suicidio da parte della madre Paola Caroselli Sarebbe proseguita tranquilla sostanzialmente come prima Maurizio Iori sta scontando l'ergastolo La pena è stata confermata il 6 luglio del 2014 dalla corte di Cassazione Gli viene tolta anche la patria potestà Scelta che indigna la madre Convinta della sua innocenza Purtroppo quella che abbiamo ripercorso non è una messa in scena teatrale ispirata alla mitologia greca In cui un agamennone egoista uccide la propria figlia, Ifigenia, sacrificandola Questa è l'orribile messa in scena orchestrata da un genitore dei nostri tempi Per coprire una ghiacciante storia reale Quella di un padre e di un ex Disposto a compiere i gesti più innaturali e mostruosi Per salvaguardare l'illusione di una ligia apparenza Di certo quella reputazione integra che tanto stava a cuore a Maurizio Iori Oggi è in mille pezzi Come ha affermato durante un'udienza un anno dalla condanna Vivere in carcere lo ha invecchiato enormemente E reputa questa vita, privata di tutto, una prospettiva peggiore della morte Peccato che lui la morte l'ha imposta alle due anime innocenti che ricordiamo oggi Claudia e Livia Io ho finito di parlare in questo video Ragazze, ragazze, fatemi sapere se conoscevate questo caso Come al solito a me questi casi In cui si commettono questi omicidi Per dei motivi a mio avviso così futili Mi lasciano senza parole Totalmente senza parole E quindi chiedo a voi, passo la palla a voi Fatemi sapere quello che pensate di questo caso Ci becchiamo come al solito qui sotto nei commenti E nel frattempo vi mando Un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando, fate i bravi Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene Ma soprattutto, prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla di criminale Ciao a tutti